Musica Salerno e provincia, reati diminuiti, soddisfatto il questore Maurizio Ficarra. Ispani, trovato un delfino arenato sulle coste di Capitello, interviene la polizia municipale. Questione Venezuela, nel Vallo di Diano al via la lotteria per la raccolta fondi a sostegno dell'Associazione Ali. Padula, partito sabato il festival Lucide e la ribatta con il concerto jazz di Bruno Tescione e Rocco Zaccagnino. Calcio ancora a Covaldiano, di Candia, non tornerò in società. Buonasera e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. Il questore di Salerno, Maurizio Ficarra, questa mattina nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso la questura, ha illustrato il bilancio delle attività svolte dalla Polizia di Stato nel periodo di Lucide Artista. Un bilancio che pare essere molto positivo, data l'assenza di criticità rilevanti, e che si pone in linea con l'anno 2018, che ha visto una netta diminuzione di reati sia a Salerno che in tutta la provincia. Vediamo. Dare soddisfazione all'attività della questura e allo stesso tempo alla percezione di sicurezza dei cittadini. È il motivo per il quale il questore di Salerno, Ficarra, ha voluto tenere una conferenza stampa questa mattina di bilancio sulle attività poste in essere durante il periodo di Lucide Artista, due mesi intensi, nei quali la questura di Salerno ha effettuato 45 arresti, denunciato 74 persone e controllato più di 4.500 persone. Il questore di Salerno si è detto soddisfatto perché di fatti non c'è stata nessuna criticità, nonostante il mese di dicembre abbia visto le forze dell'ordine impegnate anche a garantire sicurezza durante eventi sportivi della Salernitana ritenuti a rischio sicurezza. Il questore inoltre ha confermato l'arrivo di nuovo personale in forza alla Polizia di Salerno e si è soffermato sull'ultima operazione effettuata dalla squadra mobile che ha portato all'arresto di una persona trovata in possesso di 9 kg di droga. Il 2018 dal nostro punto di vista è stato un anno in cui abbiamo registrato una diminuzione di fatti di reato e proporzionalmente invece un aumento delle attività di polizia. In questo momento la situazione ci fa essere moderatamente tranquilli. Noi non abbiamo la sfera di cristallo per cui non possiamo sapere tra un giorno, una settimana o un mese cosa avverrà. Però l'incontro di oggi con voi è per testimoniare il nostro grande impegno intanto per la manifestazione che è appena terminata di Lucide Artista e anche quella di tutto il 2018 che ci ha visto impegnato con un impiego di uomini e di energie veramente al di sopra del normale. Intanto proprio oggi quest'ora è un'operazione che vi ha consentito di fermare una persona con 9 kg di droga. Conferma anche del fatto che Salerno resta un crocevia importante da questo punto di vista? Beh sì, purtroppo questa è la materia del giorno. Il traffico di stupefacenti è sempre presente. Noi abbiamo un'enorme quantità di uomini che sono dedicati a questo tipo di attività. Il sequestro di oggi conferma appunto il fatto che noi siamo veramente ancora sul pezzo. Per il 2019 noi siamo abbastanza fiduciosi perché il capo della polizia ci ha promesso dei rinforzi. Noi riteniamo che fra quest'anno e l'anno prossimo avremo almeno 60 unità in più. Come lo stesso capo ha detto ovviamente dobbiamo tenere conto dei pensionamenti. E però questo ci consentirà di aumentare tutti i presidi sia quelli della provincia che quelli del capoluogo. E quindi noi siamo abbastanza tranquilli che riusciremo a fare il massimo del nostro dovere. Cambiamo argomento. Sabato pomeriggio, nel tardo pomeriggio, un delfino è stato trovato arenato sulla spiaggia in località Capitello della Frazione Ispani. Ad intervenire sul posto gli agenti della Polizia Municipale che hanno effettuato tutte le operazioni di recupero. Sulla spiaggia di Ispani è stato individuato sabato scorso un delfino arenato. Nel pomeriggio gli agenti della Polizia Municipale guidati dal comandante Antonio Ferrara sono stati chiamati ad intervenire sulla spiaggia della Frazione di Capitello dove è stato trovato un magnifico esemplare di delfino della specie Stenella Alba, detto così per la presenza di una striatura sul fianco che assume le sembianze dell'alba. Non sono ben chiare le cause che hanno portato il cetaceo ad arrivare sulla spiaggia di Capitello dove poi si è arenato. Da una prima analisi molto superficiale effettuata dal comandante Ferrara che ha coordinato le operazioni di recupero del delfino non sono emersi segni di ferimento né tantomeno segni che potrebbero lasciar supporre un eventuale aggrovigliamento in reti di pescatori. Il corpo del cetaceo, lungo circa due metri infatti, non presenta alcun tipo di taglio. Non si conoscono altri dati relativi al delfino che sarà trasferito a breve presso la stazione zoologica Anton Dorn di Napoli per effettuare ulteriori accertamenti sul delfino, comprendere l'età esatta considerando che la specie del delfino Stenella può raggiungere i due metri e mezzo di lunghezza e specialmente il maschio può anche superare tale lunghezza e capire cosa ha portato il meraviglioso esemplare di cetaceo ad arenarsi sulla spiaggia di Capitello. Ed ora il dramma Venezuela dove l'inflazione nel 2019 toccherà i 10 milioni per cento come previsto dal Fondo Monetario Internazionale. Una situazione drammatica e di povertà assoluta che tocca da vicino anche la provincia di Salerno. Nel Vallo di Viano e nel Cilento sono attive associazioni che cercano di sostenere con aiuti umanitari le popolazioni venezuelane. Intanto parte una lotteria per la raccolta fondi. La questione Venezuela, seppur lontana nello spazio, resta vicinissima al Salernitano dove si susseguono le azioni a sostegno dei concittadini italo-venezuelani che ormai da anni affrontano condizioni di vita dure. Da tempo le condizioni dei cittadini venezuelani che soffrono per una crisi economica spaventosa tanto da vedersi privati dei beni di prima necessità sta preoccupando il Vallo di Diano e il Cilento dove tantissimi tato-venezuelani sono dovuti tornare in questi ultimi anni e dove peraltro risiedono i parenti di cittadini ancora nel Venezuela a cui mancano beni essenziali come i farmaci salvavita. A sostegno delle comunità venezuelane si sta muovendo da anni l'associazione Alionlus che raccoglie farmaci di qualsiasi genere fino anche l'aspirina per poterli inviare in Venezuela attraverso i canali specifici. Nel Vallo di Diano a sostenere il lavoro dell'associazione Ali in questi ultimi mesi anche il gruppo Misericordia presieduto da Benedetto Mazzariello che per sostenere la spedizione degli aiuti umanitari il cui costo diventa spesso neroso hanno deciso di dare vita ad una lotteria con la vendita di biglietti che sono reperibili presso tutti i volontari del gruppo. Diversi premi in palio anche particolarmente prestigiosi con la serata di estrazione in programma per il prossimo 14 febbraio presso l'oratorio della chiesa di Sant'Anna. Il ricavato, come detto, sarà interamente devoluto all'associazione Ali per contribuire ad inviare gli aiuti umanitari nel Venezuela. Una piccola iniziativa ed un piccolo contributo per dimostrare la vicinanza al popolo venezuelano dove manca cibo e medicina e dove si parla di un'inflazione che può toccare i 10 milioni per cento come stimato dal Fondo Monetario Internazionale e la moneta venezuelana e il Bolivar che ormai non ha più valore. Ciò che prima costava un dollaro oggi costa 100 mila dollari. Una situazione economica di povertà assoluta per un paese che ospita tantissimi italiani che negli anni del dopoguerra trovarono quel lavoro che mancava in Italia proprio in quelle terre. Ed ora torniamo in Campania. Il piano spedaliero regionale andrebbe rivisto. Non ha creato delle problematiche solo al Vallo di Diano e al Golfo di Policastro. A quanto pare si è rilevato peggio del previsto per i cittadini della Valle del Sele e del Calore. Vediamo il perché. L'aggiornamento 2019 del piano spedaliero campano ovvero lo strumento con il quale vengono ripartiti i servizi sanitari e ospedalieri ai cittadini campani si è rivelato peggio del previsto per i cittadini della Valle del Sele e del Calore su circa 797 posti letto pubblici ospedalieri spettanti e da ripartire tra gli ospedali di Eboli, Battipaglia, Oliveto Citra e Rocca d'Aspide ne vengono riconosciuti solo 442. Tutto l'impianto risulta in contrasto con le normative nazionali e con il buonsenso tuona Adelizzi Rosa, presidente del Comitato per la tutela della salute pubblica. Il piano perciò che attiene alla provincia di Salerno non risponde a logiche di equità nell'accesso dei servizi da parte di tutta l'utenza salernitana e di giusta ripartizione dei servizi previsti sui territori dell'intera provincia. L'area della Valle del Sele e del Calore ha circa 310.000 abitanti e risulta in toto l'area più popolata della provincia di Salerno e ora la meno servita in termini di posti letto ospedalieri. Anche sulle tematiche dei punti nascita detta area risulta la più penalizzata con la chiusura dei punti nascita e delle pediatrie di Eboli e di Oliveto Citra. Valuteremo il da farsi con i comitati territoriali e le forze politiche che vorranno rivendicare i diritti dei dimenticati. Circa 24 pazienti si sono avvicinati sabato scorso alle visite di controllo grazie alla giornata di screening gratuiti promossa dall'Associazione Sapienza Ollus che in appena un anno di vita ha già organizzato una lunga serie di giornate di prevenzione gratuita. Circa 24 visite urologiche a stanza nell'ambito della giornata di screening gratuiti promossi dall'amministrazione comunale con il supporto della BCC di Buonabitacolo e organizzate dall'Associazione La Sapienza Ollus. Una giornata di visite e controlli preventivi che hanno permesso anche di individuare particolari patologie. Grazie all'Associazione Sapienza presieduta da Pasquale Citera sabato scorso è stato possibile portare presso il poliambulatorio di Piazza Vie de Ciorciari il dottor Vincenzo Giuliano e Antonio Terranova che hanno effettuato visite gratuite e specialistiche complete di ecografia addominale e transrettale che hanno indagato le principali malattie urologiche ed andrologiche tra cui vario cocele, ipertrofia prostatica e tumori urogenitali. Stiamo portando avanti, spiegano dall'Associazione, un intenso programma di prevenzione riguardante numerose branche specialistiche. Desideriamo ringraziare l'urologo dottor Vincenzo Giuliano e l'infermiere Antonio Terranova che con entusiasmo, grande professionalità ed umanità hanno accolto il nostro invito e regalato ai cittadini questo importante appuntamento. La nostra attività di volontariato continuano e rivolta a tutta la popolazione che ha difficoltà a recarsi presso gli studi specialistici per problematiche logistiche o economiche o semplicemente per trascuratezza. In queste giornate ci troviamo spesso davanti a situazioni di cure farmacologiche protratte oltre tempo per mancanza di visite di controllo al momento stabilito. Si vede e si sente la solitudine di alcuni pazienti per cui emerge nitida la necessità del nostro comprensorio di avvicinare lo specialista al cittadino. L'Associazione Sapienza in circa un anno di vita ha contribuito in modo deciso al benessere della comunità attraverso visite gratuite per consentire ai cittadini di effettuare controlli preventivi su determinate patologie avvalendosi della preziosa collaborazione degli specialisti. Circa 359 le visite gratuite effettuate in ambiti diversi come dermatologico, cardiologico, nutrizionistico, reumatologico e ortopedico raggiungendo pazienti che vanno dai 3 mesi ai 94 anni. I nostri progetti hanno già coinvolto le scuole del territorio anche nell'ambito della formazione sulle tecniche di primo soccorso attraverso i corsi di BLSD che preparano la corretta esecuzione del massaggio cardiaco e all'uso del defibrillatore semiautomatico. Invitiamo i cittadini a seguire la nostra pagina Facebook dove inseriamo costantemente le nostre attività. Cambiamo argomento. È partito sabato sera il Festival Luci della Ribalta nella Certosa di San Lorenzo a Padula. Taglia quest'anno il traguardo della ventunesima edizione. Il primo appuntamento, un concerto, si è tenuto nella sala del refettorio dove si sono esibiti Bruno Tescione alla chitarra e Rocco Zaccagnino alla fisarmonica. Un momento di musica jazz qualitativamente molto alto che ha raccolto anche tanta gente nonostante il freddo gelido dell'altra sera. Con Luci della Ribalta Padula diventa crocevia di culture. Non a caso il sottotitolo scelto è Interculture Festival perché il cartellone è stato proprio costruito pensando al continuo incontro di culture che attingono a differenti logiche spazio-temporali. Il progetto prevede inoltre altri sei concerti, un incontro di studi, un seminario, un convegno e quattro masterclass in continuità con quanto proposto lo scorso anno. Il festival è organizzato dal comune di Padula con il contributo della regione Campania nell'ambito del POC Campania 2014-2020. Dato che si tratta di un festival che abbraccia diverse culture oggi non potevamo che proporre un repertorio più o meno a tema quindi la matrice è senza dubbio gezzistica che è un po' il genere che ci accomuna però il repertorio si muove a cavallo tra Europa e Sud America più che altro eseguiremo alcuni brani di Astor Piazzolla quindi il nuovo tango argentino, il new tango Piazzolla si può dire che è l'inventore di questo stile, di questo genere e poi ci sposteremo in Francia e lì ci apre la porta Richard Gallienot con la sua fisarmonica che oggi verrà interpretata magistralmente da Rocco Zaccagnino e quindi proporremo alcuni brani del suo repertorio alcuni brani della tradizione gitana sempre francese qualche piccola intrusione anche di qualche standard colonne sonore insomma faremo un repertorio un po' vario però come comune denominatore ci sarà il Sud America e la Francia Siamo felici di essere venuti qui in questa location bellissima tra l'altro io e Bruno siamo venuti qui diversi anni fa a suonare un repertorio diverso tra l'altro lui non credo neanche che ricordi un repertorio di tango e quindi per noi è un piacere tra l'altro il nostro il genere che proponiamo stasera il repertorio che proponiamo stasera apre delle finestre ogni finestra riguarda una cultura diversa quindi dalla cultura del tango passeremo da Astor Piazzolla alla cultura della musica francese quindi di Richard Galliano ma non solo per poi dare un sguardo anche a quello che è lo standard jazz quest'anno volutamente l'inizio è nella parte invernale per cercare di portare un po' di gente incertosa far vivere la certosa però questo non ci scoraggia continueremo con una serie di incontri che arrivano fino alla fine di aprile quest'anno abbiamo fatto qualcosa di importante qualcosa di altissimo livello con il contributo del direttore artistico che ha lavorato in stretta collaborazione con l'amministrazione comunale Diamo inizio a questo programma così impegnativo che ci condurrà fino al prossimo aprile con la direzione di Antonello Mercurio abbiamo proseguito il cammino intrapreso l'anno scorso di laboratori, masterclass e sono tante le collaborazioni di cui ci avvaliamo quest'anno una tra tutte quella del Conservatorio di Salerno e dell'Università di Calabria questa sera diamo appunto inizio a questa rassegna così importante per Padula come ho detto già anche nella conferenza è un momento, è una grande eredità che riceviamo dal passato e che abbiamo fatto diventare attuale grazie a nuovi appuntamenti ricordo il 15 marzo ricorderemo anche i 110 anni della morte di Gioe Petrosino Ed ora qualche minuto di pubblicità torniamo tra pochissimo con tutte le nostre notizie restate con noi a tra poco Bentrovati alla seconda parte del nostro telegiornale si è conclusa sabato sera presso il Teatro Comunale Amabile di Sant'Arsenio la settima edizione del Festival Teatrale Sant'Arsenese con le premiazioni e lo spettacolo finale della Compagnia Sant'Arsenio ieri, oggi e domani si è conclusa sabato sera presso il Teatro Comunale Amabile di Sant'Arsenio la settima edizione del Festival Teatrale Sant'Arsenese la serata si è aperta con le premiazioni delle 12 compagnie che hanno partecipato alla rassegna e i riconoscimenti alle testate giornalistiche che hanno supportato l'iniziativa a seguire lo spettacolo ancora una volta a noi portato in scena dai padroni di casa la Compagnia Teatrale Sant'Arsenio ieri, oggi e domani che attraverso le parole del Presidente Giuseppe Greco si dice molto soddisfatta di come è andata questa settima edizione questa edizione è stata un'edizione molto ricca che ha visto 13 spettacoli è iniziata il 3 novembre scorso e di sabato in sabato siamo arrivati ad oggi è stata la settima edizione che abbiamo voluto dedicare al Maestro Sebastiano D'Amato fondatore del Teatro Sant'Arsenese ricorrendo quest'anno i 150 anni dalla sua nascita questo festival penso sia una grande opportunità un'opportunità per tutti noi di crescere e spero che venga sempre più colta questa opportunità e quindi sfruttata negli anni a venire lo spettacolo di questa sera è un po' una novità non si tratta di una commedia come abbiamo sempre fatto è uno spettacolo che abbiamo creato noi è uno spettacolo che racchiude diversi momenti di quello che è stato il nostro percorso teatrale iniziato nel 2012 quindi si tratta di sketch messi insieme tratti dalle varie commedie che abbiamo portato in scena quindi è uno spettacolo che per noi ha veramente un grande valore affettivo presente sabato sera il sindaco di Sant'Arsenio Donato Pica che durante tutta la rassegna non ha fatto mancare il sostegno ai ragazzi da parte dell'amministrazione comunale grazie all'ennusiasmo, all'impegno e alla capacità di un gruppo di ragazzi che hanno fortemente creduto in questa iniziativa e si stanno cimentando già da alcuni anni in una rassegna che ospita compagnie del territorio e delle zone limitrofi e devo dire sono tutti gruppi di ottima professionalità che hanno allietato molte serate qui nell'auditorium comunale di Sant'Arsenio per cui noi siamo stati e continuiamo ad essere ben lieti di offrire il nostro patrocinio a questa manifestazione che tra l'altro ha anche una funzione come dire educativa nel senso che può e deve portare tanti altri giovani a essere protagonisti e interpreti di questo teatro soprattutto quello dialettale che come sappiamo ha una lunga tradizione qui a Sant'Arsenio a partire dal compiando Peppino Amabile al quale appunto è intestato il nostro auditorium Restiamo sul tema Sabato sera c'è stato il terzo appuntamento di teatro a Casa Marone sul palco la compagnia stabile di Bellizzi con 40 ma non li dimostra Si è tenuto sabato sera a Monte San Giacomo il terzo appuntamento di teatro a Casa Marone la rassegna di teatro amatoriale è giunta alla sedicesima edizione il livello qualitativo delle compagnie in cartellone si è tenuto alto anche con la compagnia stabile di Bellizzi che ha visto le brillanti performance di Antonio e Maria Sannino padre e figlia in 40 ma non li dimostra un classico del teatro napoletano di Peppino e Titina De Filippo intramontabile esempio di umorismo di qualità la storia ruota intorno a Sesella quarantenne abbigliata male appesantita dalle inconvenze domestiche la donna sembra appagata dalla vita che conduce si muove fra la cura dell'adorato papà il ricordo della mamma scomparsa e le attenzioni da dedicare alle due sorelle nasconde però un segreto l'amore per il giornalista Luciano Giacomelli che a sua volta è innamorato di una delle sorelle di Sesella Don Pasquale, il padre delle ragazze animato dall'intenzione di dare un po' di felicità alla figlia prediletta cerca di combinare il fidanzamento tra i due ne scaturiscono fra intendimenti gag e risate a volontà non delude dunque la scelta delle compagnie chiamate a salire sul palco di Palazzo Marone il comune, Grotta Briganti e Cacio e la Terenzio Castella stanno proponendo un cartellone di tutto rispetto per l'affezionato pubblico che sin dalla prima serata numerosa ha seguito i diversi spettacoli la rassegna si conferma una vetrina che mette in luce la dedizione e l'impegno di chi fa teatro per passione restituendo all'aggettivo amatoriale l'accezione profonda di opportunità formativa aggregativa e di crescita culturale tanto di chi fa teatro quanto di chi decode vari i generi proposti ma tutte le compagnie protagonisti sono accomunate dal proposito di valorizzare e promuovere la straordinaria cultura teatrale del sud Italia non a caso le commedie sono tutte recitate in dialetto il che sposa perfettamente le intenzioni e il lavoro infaticabile degli organizzatori che manifestano non solo attraverso la rassegna teatrale amore e attenzione per il territorio le sue eccellenze e le sue tradizioni Cambiamo argomento ammirare e acquistare preziosi oggetti di antiquariato sarà possibile domenica prossima presso il centro commerciale di Ano in una nuova iniziativa promossa domenica 3 febbraio presso la galleria del centro commerciale di Atena Lucana Scalo sarà allestita per l'intera giornata una mostra espositiva di antiquariato e collezionismo nell'area galleria tra le scale mobili ci saranno dei banchetti espositivi dove gli utenti del centro commerciale potranno, qualora interessati acquistare oggetti antichi e pregiati il mercatino espositivo sarà in allestimento durante la giornata di domenica 3 febbraio nel consueto orario di apertura dalle ore 10 alle ore 21 e ora andiamo avanti passiamo alla pagina sportiva dove cade ancora il Valdiano questa volta in trasferta contro il Costa d'Amalfi intanto l'ex dirigente di Candia ribadisce l'uscita definitiva dalla società weekend avaro di emozioni per le compagini a noi vicine cade ancora il Valdiano sconfitto 2-1 fuori casa contro il Costa d'Amalfi la cronaca del match allo scoccare del primo quarto d'ora di gioco arriva il vantaggio dei patroni di casa con Marino poi il monologo bianco-azzurro non finalizzato a nulla è valso il pareggio dell'11 di Mr. To Disco al primo della ripresa con Coquen abila ad insaccare su cortare spinta del portiere avversario 5 minuti dopo infatti è arrivata la rete dei patroni di casa ad opera di Vallefuoco che di fatto ha chiuso in anticipo la partita gli azulgrana restano ancora in zona retrocessione e orfani di punti in questo 2019 ma anche di Piero Di Candia ormai un ex del Valdiano le sue dimissioni dalla carica di socio e consigliere sono giunte alla società poco più di una settimana fa anche se nell'area da diverso tempo il dirigente tegianese raggiunto da noi telefonicamente ha ribadito la sua volontà di farsi da parte complici risultati negativi e le divergenze di vedute con gli altri stati generali della squadra Di Candia ha deciso di mollare dopo una lunga riflessione resosi conto di non poter esprimere al meglio le sue idee molto ambiziose sì ma anche realizzabili con una progettazione seria e calibrata che perché no avrebbe potuto portare nel giro di pochi anni al salto di categoria ma non solo campo in cantiere c'era anche l'aspetto merchandising a azulgrana così da ottenere ulteriori introiti e soprattutto avvicinare la gente del comprensorio al movimento coinvelgendo tutti tegianesi e non come avviene anche in altre realtà italiane non più grandi della nostra il potenziale c'era tutto e volendo ci sarebbe ancora ma senza partire per gradi con una solida organizzazione non si arriva lontani e il giovane Piero compreso che questo sogno non si sarebbe potuto realizzare ha deciso di farsi da parte ringraziando tutti augurando le migliori sorti al Valdiano deciso comunque a coltivare il suo credo aspettando solo il progetto giusto per rimettersi in gioco e restiamo sullo sport cambio di allenatore per il Valdiano fuori Tudisco e dentro l'argentino Pedro Pablo Pasculli campione del mondo con l'argentina di Maradona nel 1986 fatale per Tudisco è stata la sconfitta patita con il Costa da Malfi l'ex calciatore della Salernitana ricordiamolo aveva preso il posto di Salvatore Nastri dopo la pesante sconfitta interna d'inizio dicembre contro il Castel San Giorgio ora dopo i quattro punti nelle prime tre gare sono arrivate quattro sconfitte consecutive che hanno portato la società tegianese a decidere di interrompere il rapporto con Tudisco e con questa notizia termina qui questa edizione serale del nostro telegiornale io vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro un buon proseguimento di serata e vi ringrazio per l'ascolto